58 giorni alla guida dell'amministrazione provinciale di Salerno per Antonio Iannone. 58 giorni non certo facili, visto il periodo così difficile, a parlare proprio il presidente della provincia di Salerno nel tradizionale scambio di auguri, prima con i suoi dipendenti e poi con la stampa. Ci sono state misure di taglio selvaggio e danni delle amministrazioni provinciali, ha continuato Iannone. Il governo tecnico non ha preso in considerazione quelle amministrazioni che già prima dei tagli avevano ridotto i costi. Il taglio per il 2012 è stato enorme, 500 milioni di euro, 15 per Salerno, nonostante il bilancio fosse stato già approvato. Per il 2013, per la provincia di Salerno, si prevede un taglio pari a 29 milioni di euro, somma che dovrebbe rimanere identica anche per il 2014. Dunque le prospettive non sono delle migliori, ha continuato il presidente della provincia, ma noi andiamo avanti. Un augurio sincero lo ha espresso nei confronti di tutti i dipendenti, fortemente preoccupati, e poi verso gli imprenditori che nonostante le grosse difficoltà continuano ad andare avanti. Obiettivo è aiutare anche tanto i giovani angosciati perché non trovano una collocazione lavorativa. Il consuntivo di un anno è stato fatto di grandissimo sacrificio, di difficoltà, per effetto anche di scelte scellerate, inique, vergognose del governo, soprattutto in termini di trasferimenti economici. In particolare le province sono gli enti che hanno risentito di più di una campagna anche mediatica che è stata condotta di lotta agli sprechi per individuarle come la fonte di questo malcostume della politica e dell'amministrazione italiana. Chi lavora per questo ci ha ottenuto ad avere un incontro molto franco e partecipato con i nostri dipendenti sa che non è così, sa che assicuriamo delle funzioni fondamentali per i cittadini. Iannone si è soffermato poi a parlare anche del CSTP e dell'aeroporto Salerno-Costa-Damalfi. Noi abbiamo svolto un percorso di risanamento che si concretizzerà nella ricapitalizzazione, così come l'abbiamo immaginato insieme all'Assemblea dei soci. Inoltre la provincia ha fatto degli sforzi aggiuntivi perché giovandosi della oculatissima gestione finanziaria che abbiamo avuto, abbiamo avuto anche la possibilità di fare delle anticipazioni di CAS che hanno potuto garantire ai dipendenti il pagamento di metà della mensilità di novembre, della tredicesima e di dicembre, siamo pronti a chiudere questo percorso di ricapitalizzazione che dia alla società una stabilità. Massima attenzione, come dicevamo, anche per l'aeroporto Salerno-Costa-Damalfi. Se oggi c'è la possibilità di realizzare l'aeroporto a Salerno è solo grazie agli sforzi della Camera di Commercio e della provincia di Salerno. naturalmente noi non possiamo reggere i costi se non in questa fase di start-up quindi abbiamo bisogno di partner, abbiamo bisogno di occasioni di volo che vadano a valorizzare il nostro scalo. È un lavoro work in progress che stiamo svolgendo perché dopo averne parlato per vent'anni dell'aeroporto di Salerno noi non abbiamo trovato assolutamente nulla di concreto. le cose non si fanno dalla sera alla mattina, richiedono impegno e applicazione da parte degli enti. Questo c'è stato sicuramente e noi siamo convinti che prima della fine del nostro mandato potremmo assicurare questa storica infrastruttura al nostro territorio.